Buonasera a tutti telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Dopo una settimana contraddistinta da tempo stabile, soleggiato e con il caldo che ha aumentato via via, soprattutto negli ultimi giorni, la situazione ha visto oggi l'arrivo di aria meno calda che ha determinato nelle ultime ore addensamenti che proprio tra la sera e la notte potrebbero provocare qualche rovescio e temporale in discesa da Lombardia e Veneto. La situazione però migliorerà nella giornata di domenica, tuttavia la giornata inizierà con molti addensamenti, soprattutto su Romagna, sulla riviera ferrarese romagnola e a ridosso dell'Appennino con isolate precipitazioni al primissimo mattino. La situazione però tenderà a migliorare con l'arrivo di schiarite entro la tarda mattinata e il sole tornerà quasi protagonista su tutta la regione nel pomeriggio. Per quanto riguarda la ventilazione sarà moderata al primo mattino sul mare che si presenterà mosso, poi sia il moto ondoso che la ventilazione tenderanno a detto innuarsi nelle ore pomeridiane. Per quanto riguarda le temperature avremo un calo termico con valori minimi generalmente compresi tra più 14 e più 21 gradi, i valori massimi saranno anch'essi in calo e generalmente compresi tra 23 e più 29 gradi. Poi la nuova settimana inizierà con il ritorno del sole su tutta l'Emilia Romagna. Per ora è tutto, buona serata ad Andrea Reggini. Grazie a tutti.